Grande accoglienza di pubblico per E le mani dell'amore, il film di Andrea Traina contro la violenza sulle donne, proiettato proprio in occasione della giornata mondiale sul tema. Il film è stato prodotto sotto legida della CGL di Ragusa e il supporto della FLC, della FISAC, dei servizi orientamenti al lavoro e dello sportello ascoltativo, e destinato soprattutto alle scuole, protagonisti del corto, della durata di 18 minuti, alcuni studenti del liceo classico Umberto I di Ragusa, Mariano Chipinti, Carlo Maria Iacono, Lorenzo Bertolone e Flavia Cubisino. Si tratta di ragazzi che hanno già sperimentato il palcoscenico essendo impegnati in un laboratorio teatrale. La storia si sviluppa attorno ai protagonisti. Nadia, 16enne timida e introversa amante del nuoto, conosce Angelo, del quale si innamora condividendone passioni e complicità. Molto presto le carezze e le attenzioni vengono sostituite da un atteggiamento ossessivo di gelosia, tale da costringere Nadia ad interrompere il rapporto sentimentale, con la tragica reazione da parte di Angelo che non si rassegna a perderla. Il film ha ricevuto una sending ovation finale. Come CGL abbiamo voluto realizzare un film, commenta Peppe Scifo, segretario generale della CGL di Ragusa, perché crediamo molto nella possibilità di un cambiamento culturale che deve partire dai giovani, i quali non sono assolutamente affrancati dal problema della violenza ai danni delle donne. Riteniamo primario e necessario, aggiunge Scifo, l'istituzione di un percorso formativo nelle scuole destinata all'educazione affettiva e sentimentale. Responsabile del progetto Le Mani dell'Amore è lo stesso Scifo, sostenuto da un gruppo di lavoro tutto interno alla CGL, Valeria Fierrinceli, Cecilia Tumino, Giovanna Tarascio e Andriano Rizza. Hanno partecipato al dibattito finale con il regista e gli attori Francesco Artista, segretario generale della FISAC Sicilia, e grazie a Maria Pistorio, segretaria regionale della FLC CGL Sicilia, che hanno dato il loro importante contributo. Il film sarà aprietato il mese prossimo a Vittoria nel corso della rassegna del Cinema d'Essè per la Pace, poi farà il giro delle scuole della provincia.